Fiamignano si trova a metà strada tra Rieti e l'Aquila e si sviluppa tra i 700 e i 1000 metri di altitudine. La vera attrazione del comune di Fiamignano è probabilmente l'altopiano di Rascino, che ancora oggi, col suo lago che si estende e si ritrae a seconda del periodo dell'anno, offre in primavera e in estate lo spettacolo della fioritura e della raccolta delle lenticchie. Dalle parti del vicino castello di Poggio Poponesco si può godere di un panorama meraviglioso sull'intera vallata e percorrendo a piedi un brevissimo tratto di strada si può raggiungere la chiesetta rurale della Madonna del Poggio. Proprio a ridosso della Madonna del Poggio si trovano inoltre i resti del convento dei Cappuccini, quasi interamente distrutto dal terremoto del 1915.